buona quinta domenica di quaresima amiche e amici siamo si può dire al culmine di questo itinerario quaresimale di preparazione alla pasqua e quindi giunti alla quinta domenica del cammino quaresimale la liturgia ci presenta un racconto che è già un preludio della pasqua perché incontriamo il nostro fratello lazzaro che affronta come capita a ogni essere umano ad ogni uomo ad ogni donna il dramma della malattia della morte naturale e gesù si ritrova al cospetto di questa dinamica e ci viene annunciato attraverso il capitolo 11 di giovanni che è totalmente dedicato all'incontro di gesù con la famiglia di lazzaro con lazzaro stesso con le sorelle di lazzaro a betania e sappiamo bene cosa accade no la risurrezione il risuscitamento di questo suo amico di questo suo fratello che lui amava molto e di fronte alla morte del quale gesù stesso piange e si commuove profondamente turbato quasi no addirittura sembra che un verbo alluda quasi a una rabbia una collera no anche gesù prova questo sgomento di fronte al dramma della sofferenza dell'amico e della morte dell'amico ecco gesù si trova di fronte a tutto questo ma ci viene annunciato perché si tratta di un annuncio di un kerigma pasquale che gesù è la risurrezione e la vita Gesù le disse a marta la sorella di lazzaro io sono la risurrezione la vita chi crede in me anche se muore vivrà chiunque vive e crede in me non morirà in eterno credi questo allora il centro di questo racconto è il verbo credere che tra l'altro si unisce intimamente al verbo amare c'è una ripetizione continua in questo lungo capitolo del vangelo di giovanni di questi due verbi credere e amare credere e amare cosa significa proviamo a riassumere in qualche modo proviamo a a consegnarci un messaggio utile anche per le nostre esistenze Gesù dice se uno crede in me anche se muore vivrà cosa significa credere in cristo e affrontare anche la morte da credenti in cristo cosa significa credere in cristo credere nel linguaggio biblico significa aderire no aderire appoggiarsi aggrapparsi attaccarsi connettersi congiungersi pietro simon pietro sempre nel vangelo di giovanni dirà signore da chi andremo tu solo hai parole di vita eterna no pietro dice io noi staremo con te perché tu hai le parole della vita i parole di vita il tralcio unito alla vite è un tralcio che mantiene la sua vitalità e che può dare frutto cosa significa questo attaccamento a cristo significa aderire a un itinerario che Gesù ha fatto sulla sulla terra un itinerario che ci porterà a vedere la gloria del padre la gloria di dio la luce del paradiso dove sulla croce laddove Gesù non trattiene nulla di sé ma consegna tutto penso che anche il racconto di lazzaro della risurrezione di lazzaro ci presenta il senso della nostra vita e questo cammino verso la vita eterna come un non trattenere e non trattenersi una vita che sia l'esatto contrario del peccato originale di Adamo ed Eva che è proprio trattenere per sé tutto tutto no anche quell'unico frutto volere tutto per sé Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni quando è risorto e appare nel giardino della risurrezione e incontra Maria di Magdala dirà a Maria non mi trattenere non mi stringere non avvinghiarti a me è interessante perché quando Gesù tira fuori lazzaro dal sepolcro e gli dice vieni fuori lazzaro vieni fuori il morto uscì i piedi e le mani legati con bende il viso avvolto da un sudario Gesù disse loro liberatelo liberatelo e lasciatelo andare il senso della vita è aderire a Cristo il quale è stato l'esatto contrario di uno che ha provocato prigionie ma Gesù ha provocato libertà liberazioni Gesù è il servo che è colui che riassume tutta la sua esistenza lavando i piedi dei suoi discepoli e dice lavatevi anche voi i piedi gli uni gli altri cioè non siate i padroni della vita degli altri non siate gli oppressori degli altri ma siate i servitori i promotori e anche i liberatori della vita degli altri questa è già l'ora della risurrezione della gloria di Dio fratelli e sorelle che si liberano e che anche non si trattengono e che si lasciano andare che poi è il movimento della generazione della vita del dare la vita mi piace pensare che Lazzaro che esce da questa caverna di morte tenebrosa è anche il bambino che esce dall'utero materno che viene fuori che passa dalle tenebre alla vita da un luogo chiuso un luogo aperto da un luogo dove sei intrappolato a un luogo invece in cui ti puoi muovere puoi camminare e tutto questo è frutto dell'amore non a caso la prima lettura è un testo del profeta ezechiele dove Dio dice non dovete aver paura perché io vi risuscito dai vostri sepolcri ed è Dio che parla a un popolo di deportati a Babilonia e dice io vi farò tornare nella vostra terra e noi ricordiamo ancora una volta l'esodo perché il Dio biblico si presenta come il Dio dell'esodo cioè il Dio che ci fa uscire come esce Lazzaro verso la vita no ed è un Dio che non sopporta la l'oppressione non sopporta la schiavitù e il Dio biblico sarà sempre quel Dio lì ricordati io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto allora siamo invitati proprio ad aderire a Cristo nel momento in cui lui ci mostra visivamente l'amore di Dio l'amore del padre attraverso una vita la sua vita che è una vita di liberazione e che è una vita di non trattenere non trattenersi è una vita di negazione dell'avidità e questa è la vita dell'amore amatevi come io ho amato voi amiamoci allora e nell'esperienza dell'amore Lazzaro risuscita anche quel Lazzaro che è dentro di noi adesso e che chiede di risuscitare buona attesa della Pasqua buoni giorni verso la Pasqua